Musica Ciao ragazzi e ben tornati nel mio canale come penso che avrete visto nell'intro del video Mattia è il nome che abbiamo scelto per il nostro bambino vi dico solo una piccola cosetta insomma così tanto per magari per vostra curiosità perché magari qualcuna me lo chiederà nei commenti diciamo che era il nome che ha scelto il babbo il papà con l'approvazione della partoriente perché senza approvazione della partoriente non andiamo da nessuna parte scherzo comunque insomma avevamo pochissimi nomi e quelli che abbiamo portato avanti quei quattro nomi così alla fine piacevano a tutti e due quindi insomma anche quello che piaceva a me piaceva comunque anche a Nello insomma nomi che piacevano solo a me o solo a lui sono stati proprio subito scartati scartati proprio subito all'istante quindi niente ecco svelato il nome di Baby Lauro io lo chiamo Baby Lauro no? perché Lauro è il cognome infatti anche Nello a volte deve spiegare che Lauro è il cognome molto bene passo a farvi vedere gli acquisti ancora non sono acquisti sono regali i regali che Mattia a questo punto sta ricevendo da parte dei nonni siamo terni che paterni e dallo zio c'è arrivato un pacco gigante vi ho già messo una foto su Instagram con tutte le cosine di by Italian Style se mi seguite su Instagram già avrete visto queste cose che adesso vi faccio vedere quindi questo sarà un video haul di regali tante Bellino vuole partecipare al video sentite che ha tirato due colpetti dice parlate di me mi raccomando fate i bravi che vi volevo dire che vi lascio qua sotto gli altri video haul che ho fatto e gli altri video haul e qualche video insomma magari sulla gravidanza e poi vi volevo dire un'altra cosa adesso è a connetti le neuroni con le sinapsi spero di essere appunto di spunto a qualcuna perché c'erano delle ragazze che mi stavano scrivendo che dovevano fare dei regali tipo a dei bambini di amiche sorelle insomma cose varie quindi magari ecco ve li faccio vedere possono servire non solo a chi sta per avere bambini ma anche per chi deve fare appunto dei regali proprio perché sono dei regali da poco ha aperto By Italian Style a Sorrento io lo seguivo su Instagram nello ha detto ma sono cose troppo belle fammi vedere fammi vedere che cosa se hanno dei negozi fisici ed è spuntato Sorrento è un paio di mesi che hanno aperto comunque insomma a Sorrento l'ho trovato in in via Lenizza mentre altrimenti l'ho trovato penso ci sia il sito sì essi possono anche personalizzare tazze cuscini ti aspettiamo presso i nostri store Alessandro Avezzano Foggia Nola Marcianise Piombino Udine Scalea e Sorrento va bene allora partiamo da mia suocera e il mio suocero però il mio suocero sta lavorando quindi non è a casa mia suocera gli ha preso questa magliettina questo bodino io amo il mio papà proprio come la mia mamma poi questa tutina con i piedini azzurri i bacini solo sui piedini che è troppo un amore e poi tre bavaglini sono tra l'altro bavettine piccoline vedete sono di quelli piccolini che vanno benissimo per i primi mesi di vita perché insomma ha il corpicino piccolino e quindi quelli grandi sarebbe tutto bavaglio mio figlio poi modestamente io ho una super mamma e poi sono il principe dei nonni con la coroncina stupendo mentre mio cognato aiuto bello io devi vedere mio zio questa magliettina spettacolare che ha i bottoncini qua fantastica e poi sempre sulla stessa scia bello io devi vedere mio zio anche la la bavettina e poi mi fa troppo ridere questo braccio braccio gamba gamba ce la puoi fare papà io sono morta dal ridere quando l'ho visto è troppo troppo simpatico questo body e queste secondo me sono veramente idee carine per chi deve fare dei regali così almeno tra un po' cioè tra un po' forse prima di Pasqua vorrei iniziare sinceramente a come si dice a lavare le cose per il bimbo devo comprare un volevo comprare il biopresto baby se non mi sbaglio le cose almeno di taglia piccoline in modo tale che siano già lavate poi passo prima di andare ho delle cose di brooms di barbari bambino fashion e della chicco ovviamente sempre lo zio lo sta già iniziando a viziare unico nipote poi allora vi faccio vedere però le cose di prenatal queste le hanno prese i miei genitori c'è anche uno dei primi completini che mattia indosserà che ve lo faccio subito vedere è questo abbiamo preso la taglia 1 3 mesi 56 centimetri che comunque è piccolino è uno spezzato perché mia mamma aveva più piacere a regalarmi uno spezzato e per per provare sia lo spezzato che la tutina ho detto sì sì ne sono più che contenta ha i bottoncini sul retro ovviamente va messo il il body sotto che poi dopo vi faccio vedere quale abbiamo preso questo è stupendo che ha la la toppa sotto le braccia e questo ho il prezzo perché ero con mamma ed è costato 29 euro cioè non solo questo questa è la parte di sopra e poi viene con il suo completino i pantaloni che sono un amore così e il dietro con le tasche le tasche sono vere e sembrano non so pantaloni da bambino grande sono un amore e tra l'altro ecco per esempio queste cose le volevo già iniziare a lavare per metterle nei sacchettini per il parto vabbè c'è tempo ragazze c'è tempo ma sì io ho chiesto consigli ovviamente tra un po' inizio il corso preparto quindi magari mi daranno dei consigli loro comunque le signore di prenatale erano molto informate e mi hanno consigliato insomma di vestirlo a strati insomma io farò così niente ciniglia anche se dovesse anticipare la nascita tutto col cotone e casomai andare con gli strati infatti allora ho preso un set di bodini non ero convinta della taglia sono ritornata con Nello a fare un cambio e con questo cambio ho preso due bodi sempre per quando nasce però sono di quelli a portafoglio che secondo me da inesperta però secondo me essendo a portafoglio vuol dire che hanno i bottoncini qua davanti si cambia meglio il bambino questo è tutto bianco a mezza manica in cotone e questi due bodi sono costati 12,99 sempre 56 prenatal vest è abbastanza piccolino il 56 di prenatal è piccino dovrebbe andargli abbastanza bene e nel pacchettino ce ne sono due c'è questo e questo qui grigio con con questo smile con scritto take it easy e poi altri due bodini che sicuramente li porterò nel corredino e sono questi che li ho presi con mamma questi 12,95 questi invece sono cioè tutti sono regali di mamma in questo pacco c'era il bodi insomma quello classico che si deve infilare dalla testa così e poi l'altro in questo modo da mettere sotto appunto uno spezzatino del genere e un'altra tutina per il discorso appunto di vestirlo a strati ho iniziato a prendere questo giacchino sempre da prenatal che è costato 16 sempre taglia 1-3 mesi ed è un giacchino in felpa però di cotone leggera è cotone vedete non c'è non c'è niente dentro ed è bianca così va bene su tutto così glielo posso mettere aperto chiuso alla particolarità di avere queste taschine adorabili che si aprono e si chiudono cioè sono proprio tasche vere che sono uno spettacolo mamma distrugge vestiti per il figlio prima che nasca complimenti e questi erano i regali di prenatal da parte dei miei venditori io con i saldi gli avevo fatto due compiettini per questo inverno li ho trovati nella busta ve li faccio vedere così li metto a posto tutto pagato pochissimo tipo i pantaloni 4 euro e 80 insomma li ho preso per l'inverno questi pantaloni qua di tuta con con questa felpina per fargli il completino così aiuto non so come fare a farvi vedere comunque questo qua è della disney no disney tom e jerry vabbè questo qua con il pantalone grigio e poi sempre pagato una scemenza tanto per avere un cambio figuratevi era tutto al 50 quindi tipo 10 euro un completino con le cose di prenatal questo qua con il il pantalone blu che riprende lo stemmino cioè 10 euro tutto praticamente prezzi da mercato questo quando c'erano ancora i saldi poi passiamo alla chicco così vi faccio vedere un'altra tutina con questa tutina sono a tre cambi che servono per diciamo per portarli in ospedale penso che mi farò quattro bustine ancora devo avere la lista degli ingredienti no delle cose che richiedono nel mio ospedale comunque so che almeno ce ne vogliono ce ne vogliono tre comunque ne porterò quattro e comunque ne terrò altri due sacchettini a casa di emergenza corna e questo me l'ha regalato ce l'ha regalato mia suocera queste due cose della della chicco questa qua appunto è la tutina con i piedini con le ridine sotto praticamente quello che ci ha fatto la mamma vabbè poi vi farò vedere ma gli devo mettere i calzini questo comunque è della chicco e dettaglia 50 cm un mese però veste grande veste più grande cioè un altro po' veste quanto la 56 di prenatal è molto semplice c'ha le taschine questi orsacchiottini è bellina anche questa in cotone la manichina che riprende il piedino e insomma sta bene anche sulla scia di altri completini sono molto contenta vabbè mia suocera a gusto come a gusto quando mi fai i regali a me anche per il bambino e poi vi volevo far vedere questa specie di copertina ma si può anche utilizzare come piumoncino dico vabbè ed è fatta così si può imbottire o disimbottire non lo so non lo so neanche per quanto sia per carrozzina è 80 per 64 cm così e i bordi sono celesti ovviamente poi lascia da ultimo barberi che gli hanno preso insomma sia il mio cognato che è la fidanzata a Roma e passo a Brums sempre mia suocera ha fatto un completino da Brums ho visto delle cose sul catalogo che sono una cosa strepitosa sono stupende c'è un completino estivo che gli voglio assolutamente prendere appena scendiamo andiamo a sorrento ve lo faccio vedere sì in effetti mi potevo mettere un po' più indietro e gli ha creato questo questo completino di salopet con con la magliettina sotto no magliettina body è troppo figa a me questo body poi piace da impazzire con le rigline il taschino ginsato stupendo e questo è un mese taglia un mese e la salopet è sempre taglia un mese però mi sembra anche abbastanza grande così a vederla e poi sempre di Brums gli ha preso tre body questi sono taglia un mese ma non ci sono scritti i centimetri sono taglia un mese ma per fortuna sono sbracciati che non ne abbiamo o ne abbiamo pochi e nel pacchettino ovviamente di queste io non vi so dire il prezzo perché appunto sono regali e non ero con mia suocera all'interno del pacchettino ce ne sono tre questo qua con la barchetta la balenottera questo qua con le bidi brums molto semplice anche questo molto semplice con il cagnolino voi andate tutti in lavatrice e poi veniamo a Barbary Children lo zio gli zii sono impazziti e gli hanno preso un body che questo è taglia a tre mesi ed è stupendo è spettacolare bellissimo tanto d'estate starà principalmente solo col bodino e basta e poi la magliettina in stile barbary che a me piace tantissimo perché ha soltanto le riprese classiche della stoffa barbary con i bottoncini dietro e il logo blu amore spettacolare va bene ragazze questo era il video con tutti gli acquisti ora vi vado a sistemare tutte le cosine spero che il video vi abbia tenuto compagnia vi abbia dato spunti per regali per i vostri bambini eccetera eccetera e niente fa piacere aver condiviso con voi il nome di nostro figlio e niente vi mando un bacio grande ciao e al prossimo video